Speriamo di vincere, è dura, è molto dura, però o stasera o sabato bisogna vincere, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere per forza, non posso sbagliare fuori casa per riuscire ad arrivare più in finale. Da quanti anni segui la squadra? Tre anni adesso. È importante, speriamo a gara 5 con un 3-3 almeno, con un 2-2 cioè. Vincerò sicuramente. Grazie.